Siamo iniziati, abbiamo Ternana Bari, siamo finalmente arrivati qui a Ternana Bari, ma prima di farete una cosa Allora, questa sembra mai normale, esatto, non lo è Eddie Giorgi, firmato, aspetta un attimo, devo vedere se si vede Si vede? Perfetto, direi che si capisce che di Ciacci, come l'ha avuta? L'ho avuta, lo scuole di chi? Oh, giupa di cestra, vabbè, trovano subito Allora, ci sono Santino, ok? Partita decisiva per andare a meno 8 Se perdiamo la Ternana, sì l'Atalanta, la Ternana va più 14 Questa è la prima di classica, noi siamo terzi, lo vince per forza Lo aggancia con il petto, contrasto regolare, può andare in transizione, molto voce con Candellone Candellone, Candellone a Cianci, a Cianci ha di passare, a Cianci ha di passare E andiamo! E andiamo! E andiamo! Questo è solo il primo, questo è solo il primo Maita! Sì, lo vi so già! 1 a 0! 2 minuti! E' 0 a 3 secondi! E in questo momento sarebbe almeno 8, in questo momento sarebbe ancora sopra la pellicola, seco! 3! Nel frattempo che non c'è niente, mezz'ora è passata Vabbè, dopo ho finito di riprendere Sono molto contento di aver ricevuto la maglia di Cianci Ah, prima la Ternana ha preso Paolo Raga, hai vinto il primo tempo, Ternana, Bari, 0 a 1 Noi siamo sempre qui con la nostra petta Intanto sta giocando malissimo Non direi, vabbè, adesso ci sono noi, ok? Ci vediamo il secondo tempo tra 15 minuti E' iniziato il secondo tempo di Ternana Bari Quindi, ok, ok il Bari, ma Tern, non Tern, non Ter Tern, vabbè, ci vediamo, vabbè, speriamo che siamo qualcuno Tranne la Ternana Ha segnato la Ternana, ma Cioè, abbiamo difeso, nel secondo tempo abbiamo solo difeso Abbiamo fatto un'azione, però Ma poi si faccio dando Ma guarda, da solo proprio Però dai Delisio Cioè, però dai, ma dai Stavamo vincendo, potete andare a meno Tu mostri da 83, che devi fare? Ha dato 6 minuti di recupero E qua La situazione è la stessa Cioè, c'è La squadra è vergognosa Cioè, è vergognosa la squadra È vergognosa, è vergognosa, è vergognosa Io non so che dire Io non so che dire Ma che arriverà, ma vattene a quel paese 20 minuti 20 minuti a non fare un cazzo In realtà, secondo te Va solo difeso Cioè, non ha fatto niente Cioè, no, se doveva Non c'è Doveva finire un azio se non difendeva No, abbiamo da pareggiare Anzi, dai, ci stiamo perdendo Cioè, almeno, 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 potevamo prenderlo No, no Ma che pizza, dai Io, io, questa felpa Io questa felpa Questa felpa che ho addosso Non la vedete mai qui nei video Ma non ho detto che mi avete preso Ma roba, non stavo facendo niente Stavo solo difendendo Così, è inutile Quando difendi sempre Ma no, cioè, non capisco Il suono è che stanno incendendo E si mettono a difendere Cosa difendete? Giocate? Che poi prendete gol E imparate così Come si fai a difendere? Prende golle? Si riprende La metà il doma Che poi il parco Ma a me Beh, almeno, fino al 97 Doveva giocare Pallone lungo del Bari Verso Antenucci Il colpo di testa di Contec Che si arrangia sul numero 7 Adesso, fischiamo Il direttore di gara È finita Esulta la verità In maniera rapida Cioè Nel Cioè, sono stati 1-0 Fino all'82 Fino all'82 In questi qua In 8 minuti Hanno fatto due gol E hanno vinto Vabbè 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 Scusate che si è piaciuto Ciao Ma Fai